Un sit-in di protesta davanti a prefetture e questure in tutta Italia. Anche a Foggia il sindacato USB è sceso in piazza con i migranti presenti sul territorio di Capitanata per il sit-in di protesta. Migranti che hanno lanciato le loro richieste a partire dall'eliminazione del permesso di protezione speciale. Decine di immigrati questa mattina davanti alla questura di Foggia hanno fatto sentire la loro voce e le loro richieste, così come spiega nel dettaglio. La rappresentante sindacale dell'USB. La questura che questo creerà moltissimi problemi per tutte le persone che abitano e lavorano qua a Foggia e in questo modo non riusciranno più a rinnovare il proprio permesso e diventeranno irregolari. Quindi la questura ha detto che si faranno portavoce di queste richieste al Ministero dell'Interno. Come abbiamo spiegato prima, la manifestazione di oggi non è solo a Foggia ma è anche in altre città in Italia. Quindi queste altre città porteranno le stesse richieste e quindi speriamo che, visto che questa richiesta di cambiare questa circolare al Ministero dell'Interno non arriverà solo da una questura, ma arriverà da tante questure in Italia, speriamo che ci possa essere un risultato. Oltre a questo abbiamo ottenuto un risultato per alcuni casi specifici.